Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. La contessa di Cambridge, nota anche come che, Merrothan, ha recentemente generato interrogativi e dibattiti circa il suo stato di salute e la sua sfera personale. Seguendo un intervento chirurgico all'addome all'inizio dell'anno, Kate è rimasta lontana dagli occhi del pubblico, innescando curiosità e varie congetture tra gli ammiratori della famiglia reale. Il Kensington Palace ha confermato il successo dell'operazione pianificata, pur mantenendo riservo sui dettagli specifici dell'intervento. L'assenza di immagini di Kate all'uscita dall'ospedale e la rinuncia del principe William a un evento ufficiale per motivi personali hanno alimentato ulteriormente le ipotesi online. Le teorie si sono spaziate, con alcuni che suggeriscono possibili problemi seri non dichiarati o tensioni coniugali come causa dell'allontanamento di Kate dalla scena pubblica. Nonostante le numerose teorie e ipotesi, bisogna ricordare che si tratta di mere speculazioni senza fondamenti solidi o conferme ufficiali. La privacy di Kate Meroten e la sua vita privata meritano rispetto e considerazione, evitando di alimentare voci e congetture senza basi reali. E tu cosa ne pensi di questa triste vicenda? Scrivilo nei commenti! E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato. Grazie a tutti!